Buonasera, siamo arrivati a questa sessione di venerdì pomeriggio della Puglia Reggae Academy, oggi in compagnia del grande Neil Perch, producer per Zion Train, Lampa Dread from One Love by Paua, DJ War, fondatore del Sud Sound System e fondatore del War Sound, insieme a Powered by Black Star Line Sound System che questa sera ci regalerà grosse emozioni, grosse vibes dopo le 22, dopo le elezioni, oggi siamo qui a parlare di storia e tecnica del Sound System quindi lascio subito la parola ai protagonisti. Grazie Tommaso, buonasera, per me il Sound System è una parte integrale e molto importante della storia della musica del Reggae. Scusami anche per il mio italiano, non è buono se non capisce, proviamo anche in inglese. Però senza il Sound System non c'era il periodo per me che si chiama il periodo oro nella storia di musica giamecana, tipo Tobi's produzione, anche Black Ark, senso la potenza che dà al movimento la presenza del Sound System, non c'era molta musica. Puoi immaginare se ogni sera in Kingston è l'anno 78, 80, 82, se c'è tipo 15 sounds che sono fuori con produzioni che sono finiti il stesso giorno in the studios di Kingston. Senso questo il pubblico non può sentire questa musica nuova, non c'è l'evoluzione molto molto rapida della musica che c'era in questi giorni. E per me è anche un tool di produzione molto importante per questi giameccani. Puoi immaginare Tobi's in suo studio, mixing, un pomeriggio mixing, la stessa sera alla strada con il dubplate che ha mixato quel giorno e nel Sound. Lui puoi guardare come danzano, come, se ti piacciono o no, la gente, la nova dubplate. Subito è un impianto che lui ha costruito e lui capisce in totale. Lui può fare funzionare il suo impianto come il suo studio. Questo è un tool molto importante per l'evoluzione della musica. Non è una sorpresa che il producer, meglio di questi anni, in mia opinione, è Tobi's che aveva il sound system anche meglio del periodo. Le due cose vadano insieme. Adesso vediamo anche in Italia che c'è un nuovo sound system quasi ogni settimana che è costruito. Anche è una cosa molto bella per la musica, perché si può sentire la forma corretta per questa musica in ogni città dell'Italia, anche Germania, Inglaterra, Francia. È per questo che il sound system è fondamentale nella storia di reggae music. E anche quando io parlo del sound system, io parlo di questa cosa con tutte queste machine. Non parlo di un tipo che c'è 50 dischi vinili a casa e si chiama sound system. non è così. È un sistema per il suono. Esattamente. È ovvio. Non è un uomo con dischi. Questo è un altro fatto perché è importante questo oggetto nella storia della musica del reggae. L'altra cosa è una musica che è fatta con passione. Puoi immaginare che non c'è una passione più grande nella musica che è la passione che fa costruire del legno e un metal su un proprio sound system. non è una passione così in rock o anche nella musica elettronica. Non c'è questa passione. Crede me, deve essere o pazzo o molto appassionata per costruire uno di questi, suonare ogni settimana, riparare il lunedale sound per il prossimo weekend. E tutte e due le cose. Esatto. Questa mostra per me il passione che c'è nella musica reggae originale. No, dico appunto così. A livello storico giustamente tu citavi Kintabis produceva. Tant'è che la storia dei sound system è legata a produttori che avevano un sound system e un negozio di liquori e quindi per abbinare le due cose, no? Inizialmente per vendere più liquori mettevano le casse fuori, suonavano musica, no? Immaginiamo appunto gli anni, fine anni 50, primi anni 60, no? Mettevano fuori le casse e si suonava musica. Per lo più blues, rhythm and blues, anche country, no? Studio One, no, Don Beaton, Duke Reed, Trojan Sound, Sebastian the Greatest, suonavano questa musica. Jets, soul, rhythm and blues. Poi è arrivata l'indipendenza della Giamaica e quindi uno spirito di identità che ha portato il giamaicano a pensare di costruire una musica nuova. Sì, sì. Ed è nato lo ska che è figlio del mento, del calipso, anche del rhythm and blues, del jazz e del soul. E appunto lì nascono i sound system. I primi produttori erano appunto Coxon, Trojan ed erano produttori di musica e owner di sound system. Prince Buster, Voice of the People, aveva un sound system. facevano, come dicevi tu, incidevano le canzoni in studio, poi andavano nelle danze e le suonavano. Ognuno aveva una sua caratteristica di suono. Coxon aveva i suoi cantanti, Trojan aveva i suoi cantanti. Tant'è che poi i sound system si sono anche evoluti così. Produttori, appunto tu hai citato Dabbis, un produttore. Poi è arrivato King James, Yutman Promotion. Quasi tutti i sound system giamaicani erano poi gestiti da produttori. Anche Steely and Clee avevano il sound con cui suonavano le prime canzoni. Volcano. Tant'è che alcune famose canzoni che balliamo sono nate come The Plate. Under Me Sense è un Dapplet di Volcano. Suoniamo il disco, ma quella è originariamente una canzone che John Joe aveva fatto per il sound. L'ha suonata, piaceva e poi quello stesso tape l'ha usato per fare un 45 giri. Quindi la fondamentalità che diceva Neil è assolutamente parte della storia con tutte le evoluzioni che poi ha avuto nel corso degli anni. Appunto si faceva anche quando c'è stata la rivoluzione digitale. Quando è entrato ai primi computer, King James ha usato lo Slantang in un Clash, tra l'altro, dove c'erano quattro sound system montati, King James con il Superpower, Black Scorpio, storico nemico, amico e rivale, Yutman Promotion che era forte perché aveva Tenorzò, aveva Junior E. King James vinse un Clash suonando questo nuovo suono fatto con computer Casio, PPPPP, Slantang ed è stata la rivoluzione, vinse il Clash e lo Slantang è diventato un'icona della musica digitale e stiamo parlando dell'85 insomma. È una rivoluzione più grande perché la prima volta che il pubblico sente questo Slantang sentiva questo nuovo pezzo, forward della Madonna e ad oggi si contano, non lo so, centinaia di canzoni sul ritmo. Milioni forse. Sì e quindi insomma questo sottolinea quanto è importante il suono, cioè il sound system appunto, un sistema di suono, discoteche mobili che abbiamo chiamate per anni, che poi si sono caratterizzate che oltre ad avere la produzione ogni sound system aveva una squadra di cantanti. Tant'è che anche per quello poi il su sound system assume quel nome uguale, stessi noi, One Love by Power che originariamente eravamo un po' come il su sound system, cioè io mettevo la musica e i miei compari il Presidente Arpi, Davide, insomma cantavano, uguale, facevano giù, quando siamo conosciuti, Ludovic Gevore metteva le basi e Ludovic Gevore punnava sopra, perché un sound system in Jamaica a quei tempi là era anche quello, cioè oltre ad avere i dischi e la musica che facevi tu, avevi il tuo squadrone, il tuo orticello di cantanti o DJ perché facevi la serata, mettevi il disco, finiva il disco, lo giravi, passavi il microfono al cantante, al DJ di turno e ci faceva la sua cosa sopra, no? Tant'è che i primi cantanti, DJ giamaicani, si sono allenati molto, sono molto più talentuosi delle nuove generazioni proprio per questo motivo, perché andavano verificati nella danza, andavi al microfono, se eri bravo abbastanza o a cantare o a fare il DJ, il microfono te lo lasciavano, se eri talmente talentuoso, il produttore ti veniva a prendere, dice, oh piccoletto te, vieni qua, te porto un studio, e tanti talenti in Jamaica sono nati così, con il sound system, e tant'è che la qualità, ad esempio, negli ultimi anni, secondo me è decaduta anche per questo, i ragazzi vanno in studio, con il Pro Tools, il Decoder, insomma, con tutte le macchinette, fai quattro bar di una canzone, stoni, no? Aria Chiappi, cuci, dai, a cuci, esce tutto bello, invece no, prima andavi in studio da Kintabis, o da Jammis, o da Stryker Lee, quelli quando stavano in studio per registrare, c'era quello che spingeva a recche, no? Allora, sei pronto? Ho fatto prima quattro volte le prove, canti, canta, va bene, va bene, qui la devi fare così, poi, ok, sei pronto per registrare, plic, una botta, buona prima, te potevi sbagliare, perché non è che torno indietro, Ernastro, Taglio, che taglio? One chance. Una chance, uguale, Kintabis, appunto, Rodigan spesso ci raccontava di quando andava a tagliare i da plate da Kintabis, cioè era il cantante nello studio col microfono, spingeva il ritmo, nello stesso tempo Tabbis tagliava, mandava giù la puntina per incidere, e allo stesso tempo mixava, un one time, e sì, dava un'esclusività al dub, o allo special, che c'è differenza tra dub, special e blueprints, no? O sample, quello che prima ho fatto suonare a lui, Black Star, quello è un sample, non è un dub, Nick Banass ha dato una versione del, quel pezzo che poi c'hanno in tanti, in diverse versioni, o con di essi arrangiamenti, quello è un sample, dove non è che vi è citato quanto è bello Lampa, o quanto so più figo di te, insomma, mi sono perso qua. Fantastico, nella storia di dove vengo io musicalmente, la prossima step è quando i giamecani sono arrivati in Inghilterra, certo, quindi arrivano per lavorare, e lavorano, lunedì finì a sabato sera, sabato sera non c'è nessun posto dove possono fare festa, perché non possono entrare in bar, night club, nomarli inglesi, perché sono subito buttati alla strada, perché sono immigranti, era così, e nell'anni 50, 60 in Inghilterra, è per questo in Inghilterra che i sounds sono cominciati in la forma, la moda giameicana, per fare festi private, blues parties, blues dance, dove la differenza entre Jamaica e Inghilterra è che in Inghilterra si fa in una casa, perché fa freddo fuori, in Jamaica si fa il spiagno alla strada, e lì è nata la storia del sounds inglese, che devo dire, adesso ha l'influenza più grande per i sounds europeani, è negli ultimi dieci anni. Anche prima, nel senso anche io, credo anche War, il primo approccio con vedere e sentire un proprio sound system è stato proprio a Londra, perché insomma è il posto più vicino dove c'è una forte comunità caraibica, quindi andando a Londra è la prima volta a comprare i dischi, perché era ancora lontana e molto gostosa andare in Jamaica, insomma lo è tutt'ora, però insomma i primi viaggi a Londra, appunto al Carnevale soprattutto, vai lì e capisci che quello che avevi fatto fino adesso lo stai facendo nel modo sbagliato, perché hai voglia di comprare dei bei dischetti a 12 pollici, negli anni 80 usavamo molto il 12-inch, perché suonano molto, hanno una dinamica più aggressiva, quindi a voglia di comprare 12 pollici, andare a fare i DJ set nei locali in cui andavamo in quegli anni, che non c'erano ancora i centri sociali, poi ci arriveremo a quello, però in quegli anni appunto non c'erano, quindi a voglia di suonare dischi che pompavano, non andava, vai a Londra e senti lo stesso disco che tu suonavi per un anno intero, avere un effetto completamente totale, perché quando il basso ti avvolge, entri in una dimensione diversa, la senti la musica, il sound system dà fisicità a questa musica, particolarmente perché appunto nell'evoluzione della musica giamaicana si è dato molto enfasi alla sessione ritmica, basso e batteria. Lampa, anche nei negozi c'erano i sound system? Assolutamente sì. E tu compravi i dischi e a casa non suonavano come suonavano al negozio? Assolutamente sì, tant'è appunto uguale, andavo a comprare i dischi da Superton, e ti suonisco da paura e arsi la, io mi ricordo quando andavamo a comprare i dischi a Londra da Superton, e i bati stand there, i suonavano una canzone e tu devi alzare la mano, e spesso alzavi la mano, finito, e l'ultima copia si è preso lui. A Superton c'erano tre fratelli del capo del shop che fanno prima per fare tutti i discorsi, sì sì, un po' così. C'erano i trick, sì sì, per riuscire a vendere i dischi. Però questo, questa dalla fisicalità e anche da interattività, perché quando suoni così con un preamp puoi suonare un disco cinque volte, ogni volta sembra un nuovo disco. Diverso, certo, a seconda di come aggiusti il suono, tant'è che appunto nei viaggi a Londra, lì capivi appunto, questa cosa non può funzionare, cioè funziona se sei supportato da sta cosa, anche perché appunto affascinati dalla cultura dei sound system, apprendendola sui libri, sulle storie raccontate, poi quando la vedi la vorresti riproporre, come abbiamo cercato di fare in tanti anni, pure appunto iniziando a cantare sulle versioni nostre, però poi si è reso necessario, era necessario proprio avere una cosa del genere, perché appunto non... Cioè, per quanto uno poteva essere appassionato, promuove le cose, però poi il giorno in cui abbiamo montato, finito di montare il sound nostro a Roma, è cambiato tutto, secondo me, cioè è cambiato il modo di percepire, di vivere la musica giamaicana in Italia, e lo dimostra il fatto che oggi vengo io, insomma, sapevo dell'esistenza del Black Starliner e per motivi diversi non ero mai riuscito né a vederlo né a sentirlo, però insomma, il fatto di trovare che c'è un sound system ancora insalento, c'è ancora chi si appassiona, come dici te, a costruire un sound, e che dici o sei pazzo o sei appassionato, io dico tutte e due le cose, e per fortuna che a distanza da così tanti anni, da quando io e Uore abbiamo iniziato a provare a fare questa cosa, ne sono passati e pure se non siamo qua a sgomitare, che non c'è tanta gente che sgomita, a me va bene, anche che ci sono due persone che oggi escono con l'apprendimento di qualcosa in più rispetto a tutto il discorso culturale legato ai sound system, che negli ultimi anni si è un po' lasciato andare, diciamo. Sì, è lasciato andare, però una cosa molto forte di questi anni in Inglaterra non è solo questa fisicalità, è questa interattività, però anche l'ambiente che dà questa spiritualità a questa musica. quando tu guarda, per esempio, Shaka, Abishanti, che sono nel suo proprio system tutta la notte o tre ore, quattro ore, anche dieci ore, l'ambiente dopo queste ore è una cosa molto, molto, molto diversa da sentire i dischi a casa per dieci ore. Tutta l'atmosfera è come una chiesa, è come una meditazione spirituale e questo porta anche al sound system, perché senza la fisicalità del sound non puoi fare questo ambiente. Assolutamente no, tant'è che appunto, insomma, a dicembre facciamo esattamente vent'anni, da quando abbiamo finito di costruire il sound, che è un percorso che era iniziato anni prima, cioè noi ci eravamo scelti il nome da sound system pur non avendo un sound system, cioè eravamo appunto, io facevo i miei rigi sette e i ragazzi cantavano, però avevamo la consapevolezza che dovevamo avercelo un sound system. Tant'è abbiamo scelto, no, siamo fatti prima la sella e poi il cavallo, no? Ci abbiamo messo tre anni più o meno, primo ad accumulare i fondi, cioè insomma la moneta, perché insomma è anche un investimento in termini economici costruiti, cioè finali costano, gli amplificatori costano, i cavi spicon costano, per non parlare della mano d'opera, io da ignorante, no? Io insomma non nascondo la mia ignoranza rispetto ad alcune cose tecniche, però ho agito nel costruire il sound distinto, cioè di pancia, diciamo, e mi sono andato e informato, tanto è che questo è stato uno dei primi libretti che ho trovato a Londra, su come appunto c'erano tutti i progetti su come fa casse, no? Perché io non ne sapevo niente, mai fatto manco il falegname, niente, la prima cassa che costruì fu grazie a un regalo, mi ricaravano un cono da 18 pollici, RCF, 80 watt, aveva 25 anni di vita, era stato rubato in una chiesa, ne rubarono due, uno era rotto, quello rotto l'ho regalato a un amico di Fontana di Trevi, perché gli serviva la calamita, per piare i soldi che entrava a Fontana, e con quell'altro ci ho costruito una cassa, dentro al 32 a San Lorenzo, insomma comprai del legno, mi venne una cosa enorme, questi qua ancora non li avevo, l'avevo fatto solo a memoria, un cassone enorme, profondo, questo compensato, pesantissimo, infatti è stata fissa al 32 per anni, me lo ricordo, io l'ho visto, fissa, ho disegnato il cuore, tutto l'avevo disegnata a stile naif, con questo cassone, l'avevo costruito, per convincere tutti gli altri, vedete come sente sto bacio, se Temo fa questo, poi trovai questi libretti qua, un altro in particolare, che non l'ho perso, che era di questa fenna, è una marca inglese, che costruisce casse, ne trovai un altro della Eminence, un brand americano, e lì uguale, sfogliando nella stessa pagina, dove c'era lo Scoob Beans, nella descrizione delle casse, in tutte le altre casse, c'erano questa media, va bene per la voce, questa va bene per il rock, qui ci puoi solo parlare, e qui quando andavo a leggere, questo Bassimuth, adatto per la reggae music, lì proprio, la profezia, allora, prophecy fulfilled, regà, cioè proprio così, regà, vedete, ci ha scritto pure sui libri, cioè se temo fa così, regà, e così è stato, ho preso delle misure, sono andato da un'amica architetta, mi ha disegnato uno Scoob Beans, ce l'ho a casa da mia madre, in soffitta, non so, ho fatto un tempo a portarlo, a grandezza naturale, io con sto foglio da architetta, attaccato al muro, con tutte le misure, sono andato dal falegname, sono fatti tagli ai pezzi, con l'aiuto di Giancarlo, che invece aveva più esperienza di carpenteria, di falegnameria, insomma, siamo messi là, e da non sapere nulla, di come si mettono i ghiocci, cioè un po' di manualità, per fortuna, me l'aveva insegnata papà, e quindi l'ho applicata, ma veramente, non sapendo nulla, che ne so, queste cose qui, per me è arabo, cioè proprio, o cosa è questo, non so, frequenza, frequenza di risposta, quando abbiamo avuto Marchi, lo aiutavamo a montare il sound, poi lo sentivamo suonare, ed era tutta un'altra cosa, i stessi rischi che suonavamo noi, che se ne suonavamo noi, ci avevano proprio un altro sapore, proprio un altro gusto, proprio, era tutto diverso, e infatti ci guardavamo, e ci dicevamo, ma che, veramente, non giochiamo, qui bisogna, sbattersi, la min, insomma, sbattersi e costruirla, per fortuna così è stato, insomma, io, insomma, non ho fatto altro, per un anno e mezzo, mi sono solo dedicato, all'inseguimento, del rendere pratico, realizzare questa cosa, questo sonno, questo sogno, che poi, insomma, si è diventato realtà, insomma, poi, è stata abbastanza, una storia abbastanza conosciuta, che per fortuna ha portato un sacco di frutti, non solo grazie a noi, ma, insomma, come si dice, no, Mines Island, nessuno fa niente da solo, quindi, se non era, se non c'era tutto un supporto, non solo, cioè, sparso per fortuna in tutta la penisola, perché poi si è allargato tutto, subito a macchia d'olio, dopo un po' di anni abbiamo fatto il RAS, in Italia, forse qualcuno l'avrà sentito parlare, che significava, puntato, reali e autentici sound, no? per, appunto, spingere, ad alti livelli, la cultura del sound system, il primo RAS fu con sei sound, no, sei, sei sound system, c'era War, Vibra, quello rosa è arrivato di dopo, manco mi ricordo, Zattamassa, insomma, sei realtà italiane, l'ultimo RAS, non sapevamo più a chi dai resti, c'erano 12 impianti, più altrettante crew ospite dei sound, perché non potevamo fisicamente metterli tutti, in una, mi ricordo al villaggio abbiamo usato, fatto l'ultima volta, perché l'ex campo Boario di Roma, insomma, spazio enorme, ma più di 12 sound, non potevi proprio mettere, adesso credo che sia impensabile farlo in RAS, perché non, la logistica, i sound in Italia sono talmente diventati tanti, che io personalmente, insomma, ne continuo a scoprire, cioè, sound inteso, sound con l'impianto, perché poi ho tantissimi amici, che so sound è qua, sound è là, e ci hanno solo le cuffie, manco i dischi, oppure, ah, c'è un sacco di da plate, i da plate, sono quelle che sentite, no, i special, però, i da plate sono questi, acetati, qui, lacca, queste sono le lacche che si usano per fare i master, da cui poi nascono i dischi, no, questo in genere è piatta, cinci di sopra, no, qui ce facevano i 45 giri, poi spruzzano con l'alluminio, esce fuori lo stamper per fare i dischi, perché hanno una qualità di suono molto elevata, insomma, rispetto a un vinile. Anche sono originali, perché non durano, poi, un top plate normalmente non puoi suonare più che... infatti, adesso hanno una qualità abbastanza, insomma, scadono, se vanno col tempo, si appiattiscono, tant'è che queste ormai, però, insomma, sono pure costose, cioè, una lacca così, da incivere, costava, 15 anni fa, 80 dollari, l'equivalente di 100 mila lire, 100 mila lire, una di queste, vota, poi, una, due, tre, quattro canzoni, insomma, qualcuna la prendi a gratis, lampa, ti rispetto, e ti incido una canzone, ma tante poi, cash, cioè, quindi pure, oltre che passione, ma pure un sacco di sordi. C'era un periodo, quando, tutti i top plate, c'era sempre più che un hole, sempre o due o tre, perché hanno usato per il top plate, da acetate, che non poteva usare per mustering, perché hanno fatto un primo cut, e non hanno fatto il buco nel centro, vuol dire, non può essere un muster, lo vendono come acetate, per il top plate, e nel dance, quando io era più piccolo, si vede anche del dietro, perché Shaka, per esempio, sempre ha fatto così, prima di suonare, e si vede due o tre bucchi, e si sa subito, che è un top plate, non solo vinile, anche da lontano. Sì, sì. Belli. Sì, ma questi, insomma, sono stati fondamentali, diciamo, per il top plate, insomma, un altro degli aspetti, dei sound system, no? Questo anche è un famoso, top plate house, music house, da Londra. Sì, questo è proprio in asso, questo qua, è la prima lacca del One Love. Sì? Sì, proprio lacca numero uno, neanche della seconda cofana, perché noi abbiamo sempre fatte due, no? Dei lacche, insomma, sono stati periodi in cui eravamo molto impegnati, quindi, anche, all'ora. Qui è tipo 100 metri del primo studio di Phil Spector, il well-known producer. Sì, questi infatti, i primi dubs, come vedi, sono tutti artisti italiani, Presidente Arpi, La Villata, Mili Dampiero, Aldano, Ginko, Brusco, Nati P, insomma, questi erano i primi dubs, dei primi artisti, con gli amici, insomma, quelli che incontravi quando non c'era internet, no? E quindi non è che, o te incontro, o prendevi l'aereo, vando a Londra, incontravi qualche artista, oppure andavi in Giamaica. Però, insomma, all'inizio, i dubs nascevano molto, prima da una relazione con le persone. Sì, sì, personale, che come c'era il sound. Tutti i primi dubs che noi abbiamo fatto, che ne so, Anthony Beat, Tony Rebel, Blender, James, tutte le persone che avevamo conosciuto, che erano venuti a Roma, hanno visto il sound, visto, ah, One Love Sound, Sound Good, ti faccio, give you a dubs, no? E quindi, quando parla del tuo sound, si sa di che sta a parlare, uguale, insomma, anche Alton Ellis, ho avuto il piacere, ha cantato sul nostro sound, io selezionato. anche come ha cominciato questa cosa, dei specials, non che tu paghi l'artista, che dice una cosa bella, all'inizio no, non l'abbiamo fatta, perché le piacciono il sound. No, noi abbiamo iniziato a fare il sound, i primi dubs appunto, erano quelli fatti con gli amici, mentre stavamo così, no, più peppo appunto, perché eravamo amici, e c'è stava, che no, il sud, non credo di aver mai pagato, un dapplittare sul sound system. Secondo me non deve pagare i dopplites, questo è un errore. Lampa, ci suggerivano qui gli ospiti, Angelo, ma perché non ne ascoltiamo uno, di questi dopplites? Sì, io lo devo portare apposta anche, sono volte che fai li vedere. Ok. Faccio sentire uno, che ritengo molto bello, in italiano, prima questo qua, guarda. La seconda traccia, e poi la prima, tanto giusto un sampleino. Aldano, da Villada. One love high power, lo tendo in stoncone che batte a tempo direcchi. One love, dentro alla benzo, e legge come un poco che brucia, che ne risca l'aspetto, a un piedi che il telefono. No, la mano sulla base vantuga, un po' il ritmo è rincazionato a Duga per il piede il sol a parte per il destino a parte per il destino e che può essere pure che mi sbaglio ma io sono convinto che non c'è strana arrogantissima che con il nostro tempo singolo in romano ci senti sti passi e dentro all'avanza c'è un po' di bies e niente, questo era Aldano della Villata Posse insomma, membro storico della Villata che oramai non canta da tanti anni ma questo invece è fondamentale arriva eh non c'è un po' di rispetto e sei un po' di memoria fondamentale 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 Sì. 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 E niente, questa era l'umilità a Piero che... Insomma, la qualità non era eccelsa perché insomma... Esatto, questa è una lacca che ha vent'anni, perché insomma, le prime incisioni, Piero, insomma, è sempre stato più che un fratello, che insomma, ci conosciamo da quando appunto c'è l'esperienza dei struggle, Militam Piero, Godfather of DJs in Italy. One of the Godfather, probabilmente la seconda generazione dei DJ italiani. Ok. Perché prima di Piero c'erano Papa Briggy, i primi DJ... Biggie Bronson. E Biggie Bronson, nei primi anni Ottanta, ma facevano talk cover... Lo facevano in inglese. Esatto, Rebeat, G-Beat erano un po'... Piero ci ha messo un po' di cose diverse, no? Piero era uguale sulla scuola del talk cover degli anni Ottanta, però poi... come dire, l'ha personalizzato con la lingua barese, no? Questa è una cosa bella, quando una cultura locale è più importante che la cultura giameicana e la musica. Quando è musica italiana, che arriva da Giameca, deve essere italiana, no? Sì, poi ci mettevamo un po' di cose nostre, ma una cosa particolare che magari poche volte si è sottolineata è il fatto che a quei tempi sul sound system io usavo comunque basi da la dancehall, basi ragga, per testi conscious e militanti, mentre magari in Giamaica venivano cantate insomma liriche di slackness, di cose insomma... quindi ci mettevamo del contenuto diverso, per questo è piaciuta anche in modo particolare il nostro modo di fare la dancehall in quegli anni. Comunque tornando un po', magari prendo un po' la parola così avrei un po' di cose da dire. Vabbè, intanto io il primo sound che ho sentito, che ho visto, non l'ho visto a Londra quando ci siamo poi incontrati al Carnevale Lampa, quella è stata la seconda volta. La prima volta che ho visto un sound in Italia è stato a Bologna nel 1984. Io non mi prendo il merito quindi di essere stato il secondo, il terzo, cioè il primo sicuramente no, forse il secondo neanche per un pelo, perché il primo sound storicamente che ho visto io, poi se ce ne sono altri prima non lo so, è stato quello che costruì il Jody Marcos Sound System nell'84, lo costruì insieme a altri due pionieri, perché diciamo questi fanno parte della storia pionieristica del sound, mentre noi di quella forse moderna, con altri due, con l'aiuto di Jatabis, costruirono un sound system di 16.000 watt effettive, significa 12 scub da 18, 8 medi, 8 horn, 16 super horn, non si capisce, insomma un sound che vi di suonare per la prima volta non in una discoteca né in una piazza ma sotto la tangenziale a Bologna. Le casse erano bianche, con le griglie, con dei cliché, con la grafica Yoruba. A parte questo fatto, diciamo, così visivo, cioè fu l'impatto fisico che mi fece paura. Sentii veramente la musica, sentii veramente il basso e all'inizio fu pure faticoso, perché, insomma, sappiamo tutti che la prima volta che si va in un'arena comunque sotto un sound potente sia proprio un problema di approccio proprio fisico. Se non si supera quello, è una specie di battesimo, no? Si rischia di star male e poi rifiutare per sempre quella cultura. Sì, sì. Per me invece è stata la prima infatuazione. Quindi, diciamo, questo storicamente io conosco come il primo sound. Pubblicamente ho parlato con Jody stamattina su Skype, che attualmente è un uomo che vive in Brasile, tra il Brasile, non so, gira il mondo, comunque attualmente con degli altri geni vende delle applicazioni, per esempio, inventano e vendono delle applicazioni. Quindi mi diceva, mi raccontava dei fatti, mi diceva che la prima cosa pubblica che fecero a Bologna, che io mi persi, purtroppo, fu alla fiera Cepiertosiche, il clash tra Coxon e Jadabis. Qui non so chi vinse, però lui perse sicuramente alcuni woofer e dei finali. Quindi ho conosciuto poi, cioè proprio, veramente ne avevo sentito parlare, le avevo letto, si leggevano le fanzine, no? L'AMP all'epoca c'erano le fanzine, leggevamo le fanzine che ci arrivavano con fatica per corrispondenza o con gli amici che andavano a Londra che teleportavano. E quindi, niente, mi sono perso un poco. Comunque questo sound faceva paura. Fecero questo clash con Jadabis, eccetera, eccetera. Quindi ho conosciuto con lui questo. E nei primi anni, diciamo, in cui sono stato a Bologna, tra l'altro, io sono andato, sono emigrato la prima volta nell'81, poi dall'82 in poi ci sono stato per un po' di anni a Bologna e lì ho conosciuto Gio Di Marcos, poi, che mi ha, diciamo, fatto conoscere la cultura della base culture. Da un altro lato avevo conosciuto DJ R, invece che era stato per me un maestro dell'hip hop, uno che veniva dal movimento del 77 bolognese. Quindi non stiamo parlando di gente che fa moda, ma gente che ha fatto parte e ha dato vita a movimenti fatti per dare più libertà. Libertà che significa anche libertà di costruire un sound system che è stato storicamente la forma più democratica di espressione anche in Giamaica, no? Prince Buster lo chiamò voice of the people, cioè, non per caso, è la voce del popolo, è quello. Quello che poi abbiamo cercato di fare noi, con i nostri cantanti, Lampa, con tutti i compagni di Roma, io con tutti gli amici, tutti i ragazzi che crescevano, con Mili Tampiero, con Trebolo, con Papa Gianni, con Federico, tutti quanti gli altri. Mi sono messo in questo viaggio e ho detto, voglio costruire anch'io un sound. Mi prendevano per pazzo. Vabbè, i sound li abbiamo costruiti. Purtroppo non sono riuscito, diciamo, a costruirlo insieme ai Sud. Il progetto iniziale che, insomma, prevedeva quello di costruire un impianto, un sound system, appunto, con Piero, con... Vidi che non si poteva realizzare e l'ho costruito da solo. A un certo punto ho ricominciato un percorso che poi è stato quello che si è chiamato, si chiama ancora, World Sound. Da solo, nell'estate del 94, mi mise a costruire le casse. Ero andato a Londra, poi nel frattempo, tramite Soul Boy, avevo conosciuto Bruce, che era un tecnico di Soul Soul all'epoca. Ma il primo giorno che arrivai a Londra, questo è un viaggio, diciamo, la prima volta che sono andato a Londra, sono riuscito ad andare a Londra, è stato nel 92. Mi concessi un viaggio per una festa di compleanno. La prima persona che ho conosciuto, oltre a chi mi ospitava nello squat, è stato Marky, Marky Lyrics. Perché, insomma, chi mi ospitava mi disse, ah ma sai, si parlava cosa fai, cosa non fai. Dissi, io faccio il DJ, faccio il selector, abbiamo così il progetto di costruire un sound. Ah ma sai che qua su abita uno che ha un sound. Insomma, dopo un po' scende, mi presenta Marky. Che l'inverno successivo, poi, è venuto in Italia per la prima volta. E la cosa che dicevi, Lampa, prima era relativa alla seconda volta che scese in Italia, che scendesse insieme. La prima volta scese nel 92, scese con un camion antico, con un sound roots potente, bellissimo, con un van appresso con tutta la famiglia. La moglie, due bambine piccole. Quello ce l'ho pure io, eh. Quello è il secondo anno. No, no, la prima volta. E' a casa tua. La seconda forse. No, no, la prima volta. Quando vi perde... No, la prima volta si erano persi a Lecce e li andavamo a recuperare. C'eri tu? E ce l'ho pure io. Era la prima volta? Sicuro. Sicuro? Sicuro. Vabbè, fatemi fumare. Vabbè, comunque. Sì, è stato l'incontro che poi ci ha dato tante dritte e tante opportunità. Io addirittura qui mi ero portato tra gli appunti, tra le cose che avevo trovato. Il primo flyer relativo alla prima volta che venne il sound di Marchi, Republic Dreadnought Hi-Fi, al centro sportivo Cedars. La prima volta veramente con un sound system lo presentava la Salento Possi, Camina Antorna con lo suono, che è lo suono ed è speciale. Presenta una serata di cultura e vibrazioni con un sound system da Londra. All'epoca, stiamo parlando del 92, eravamo belli contenti di riuscire già ad avere dei contatti con gente di un sound, avere la possibilità di apprendere e di avere anche delle dritte, o anche gli schizzi, il disegno che mi fece la prima volta di un primo sound, di un possibile sound, Marchi. Anche se poi il sound che realizzai è quello che ho, frutto invece del progetto che mi che mi fece invece Bruce, il tecnico appunto all'epoca del sound system londinese, dei Soul to Soul, che era un amico di... mi era stato presentato da Soul Boy. Soul Boy, per chi insomma non lo conoscesse, è stato un po' l'ambasciatore in quegli anni tra l'Italia e Londra, della cultura black, dal ballo all'MC, al DJ, cioè è stato cultura, è stato un insegnamento e ancora per me è un maestro. Insomma, questo Bruce mi costruì anche il crossover del sound, che era non solo un crossover, era un aggeggio con anche funzioni diverse, anche da mixer, con crossfader, più possibilità di metterci effetti vari, insomma, con delle funzioni che poi ho visto, insomma, su moderni mixer successivi. Quindi sono, diciamo, riuscito a realizzare questo sogno poi nell'estate del 94, quando a un certo punto, dopo una riunione abbastanza così cruciale con gli ex soci del vecchio progetto, insomma, mi misi, dissi qua, cioè non volete costruire il sound, volete fare delle altre cose, ok, io il sound lo costruisco lo stesso. Uscì dal gruppo e mi misi a costruire le casse e tutto il resto. Poi, insomma, storia più recente, cioè non sto a parlare della storia, almeno non credo di essere qui per parlare della storia, della cultura del sound come è nata in Giamaica, che l'ha già espresso, credo, ampiamente l'AMPA, come l'ha espresso anche l'onorevole Neil. E quindi ho raccontato un po', diciamo, il mio, la mia conoscenza, ecco, come ho conosciuto questa magia che poi siamo, insomma, qui a vedere realizzata da Marco, in questo caso, che si chiama Sound System. Questo vito, questa parola, magia, è una parola molto importante in questa situazione. Per me, la prima volta che ho sentito il dub in un sound, è come una porta magia che apre la mia vita, veramente, perché prima di questo ho conosciuto molto del reggae e molto anche di altri musici, mi è piaciuto molto, però la prima volta che io ho sentito il sound, c'era Shaka, Sezima, c'è Revelation Music, and Saxon. Quattro sound inglesi molto diversi, Shaka, King David style, Spiritual Warrior, Sezima, Ethiopian World Federation, è una chiesa, Ethiopian chiesa, Twelve Tribes of Israel, Sound System, già Revelation Music, altra chiesa, rasta, diciamo, Saxon, è il sound originale dancehall di Inglaterra. Tutti questi in Brixton Town Hall, anche con il suo proprio pubblico, che solo balla per un sound. c'è quattro che sono, e tre quarti del pubblico non danzano ogni volta. Quando Shaka ha suonato, c'era tipo, danzo, tutti in Inglaterra hanno conosciuto per il lavoro di Tipperary, di questo sound, tutti, perché c'era anche a hit, big hit. It's good to have the feeling you're the best, il primo disco di Tipperary, fatto in Saxon. C'è Revelation Music, è molto tipo spirituale, seguendo la Biblia, che personalmente io non lo seguo. Ethiopian World Federation, sono anche Sezima sound, sono anche religiosi, però loro c'era un problema di rassismo in questo periodo. Loro hanno detto, solo neri possono essere rasta, e io c'è anche un problema con questo fatto. Shaka era, come ho detto, questa porta magicale, che è incredibile. Brixton Town Hall, fuori è intenso, no? È nella strada a Brixton, molto intenso. Lì è come tipo Zulu Warriors, questi tipi che alla strada, sono nomali giameccani alla strada, e nel secondo che fa sonare il Doppler Shaka, loro sono trasportati tipo 400 anni indietro in sua propria storia. e sono African Warriors, lì, in Brixton Town Hall. Questa è una magia culturale che mostra la potenza di questa musica. Non deve essere tipo African Warriors, però deve essere una cosa magicale, no? Per me magia è una parola molto importante nel mondo del sound system. Dopo di questo giorno, io non ho mai pensato di fare altra cosa nella mia vita, solo lavorare con sound e con dub. È una magia. Grazie. Parliamo un po' delle specificazioni tecnici di un sound, perché parliamo del sound, perché si non ha mai costruito un sound, non ha mai usato un preamp, forse non sai la differenza tra questo e un impianto in un club o in un festival. Sì, infatti c'è grossa differenza tra un PA, come si chiama tecnicamente, cioè la normale amplificazione che magari quando andate a vedere un concerto o anche una normale discoteca, hanno gli impianti, sì, qualcuno ha anche il subwoofer, che è importante perché appunto servono i bassi, ma però spesso manca proprio, almeno qua in questa parte del mondo, manca proprio la cultura del basso rilevato in una certa maniera. Siccome che la musica giamaicana appunto nella sua evoluzione si è sempre basata sul basso, basso e batteria, drum and bass sono gli elementi cruciali, fondamentali, proprio il backbone, cioè proprio la radice fondamentale, quindi per poter ascoltare questa musica insomma avrete ben capito che è necessario avere un impianto differente, dove viene necessariamente, deve essere enfatizzata la linea dei bassi, tant'è che se dovessimo chiedere adesso a Marco qual è la quantità di watt che impiega sui bassi e quant'è il resto dell'impianto tra medi e alti, c'è una proporzione che non è pure culturalmente per un ingegnere, tu che sei fonico probabilmente mi acconsentirai con me che pure tra voi fonici non c'è questa cosa di mettere i bassi alti, tant'è che anche per quello Marco se sarà fatto il suo sound è così, nessun fonico gli dovrà dire abbassa i bassi oppure butta giù, come ci capitava anche a noi le prime volte che schieravamo il sound, che ne so, in situazioni non friendly, dove non c'era un pubblico tuo, oppure erano appunto curiosi, problemi con i locali perché guarda ma c'è il basso che distorce, no guarda non è che distorce, è proprio così che l'ho io che lo sta, ma perché non abbassi un po' e lì guardi sempre storto, come abbasso levo il basso che io che sto, oppure che ci chiamavano Montier Sound e poi io abbassa il basso, scusa che mi ha chiamato a fa' cioè che mi ce fai venire a fa' se poi io non posso che è quello che mi caratterizza, poi a secondo poi tecnicamente appunto anche Marco per esempio c'ha Black Star Line, usa già Tabbis Preamp come lo usiamo noi, però già lo sento diverso come suona, perché io ho dei medi e degli altri differentemente, quindi il mio sound, il suona completamente diverso da quello di Marco, questa è la cosa proprio da sottolineare esatto, cioè che è proprio, ad esempio io già l'ho sentito adesso, mi sembra molto più pulito del mio, cioè il nostro sound è molto sporco, anche perché penso sia proprio sporco il preamp che bisogna levagli un po' dei polveri, però c'ha un suono completamente differente, perché il tipo di casse che ho usato per fare i medi, gli altri io non c'ho neanche le trombe, c'ho solo trombini, da fa uscire il sangue alle orecchie insomma, quindi suona differente, quindi ogni sound system è differente dall'altro, cioè pure di Giguard ha delle casse differenti da quelle di Marco, differente da quelle mie e suona differentemente pure da nonostante abbia un preampo. La gente se lo ricorda, volevo dire questa cosa, la gente ormai ricorda il suono del sound War Love, del sound Black Star Line, del sound War, al di là poi della potenza, delle proporzioni o meno, cioè ogni sound è peculiare, del progetto, di chi l'ha progettato, il mio suono è in un certo modo, non è potentissimo, ma l'ho studiato, l'ho pensato anche in funzione della mia forza fisica, visto che non lo potevo fare più in compagnia, ho detto vabbè lo devo fare da solo, quindi lo dovrò comunque caricare e scaricare da solo, ho poco spazio, ho un garage piccolino, quindi me lo faccio così, ma in questo modo ottengo anche un suono diverso, questa cosa mi ha, cioè diciamo la necessità di dover fare anche delle casse diverse, anziché 18 pollici, ho fatto dei 15, mi ha dato possibilità poi anche di espressione diverse perché ho fatto un sound che è diverso anche nella dinamica, suona bene anche, non scende tantissimo, non scende tanto con i bassi per il dub eccetera, però poi magari posso suonare anche la jungle, posso suonare anche l'hip hop con una bella definizione che la gente poi ricorda, insomma ricorda quel tipo di suono.